Sì, io credo che sì, dopo dipende molto sapendo che questa è una partita che avrà bisogno di tutti i giocatori aversi un'intensità altissima, certo che Milan è un giocatore che dopo di essere recuperato introduce tantissimo lavoro su di lui praticamente ha partito forte, sta molto bene, comunque dopo l'analisi, la valutazione, la lettura che noi facciamo durante la partita conoscendolo abbastanza bene per cercare di minimizzare qualsiasi momento che lui possa essere praticamente muscolare anche capendo, cioè aspettando feedback da parte di lui, di tutti i giocatori, di forma a non perdere nessuno perché è importante fino alla fine di stagione aversi tutti in grado di darci la sua performance per la squadra Oggi, già per dirvi, non andate a vedere Borca Valero perché Borca ha avuto un po' di influenza e per non avesse un cambio di temperatura oggi abbiamo deciso di esserci sull'albergo sta lavorando in questo momento, riposando per domani esserci pronto per la rifaccia Felici ci sta bene? Felici sì Felici sì